Così Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia Movimento 5 Stelle e che fa parte di quell'ala, l'avete sentito, che pensa che debba essere un no a Draghi, così come ha detto Grillo, di Battista, insomma all'interno del Movimento c'è un grande dibattito e sicuramente delle sensibilità diverse e saranno anche sensibilità che peseranno sulla composizione se ci sarà una composizione del governo Draghi. Buongiorno Emilio Carelli, che da un paio di giorni è nel gruppo misto e che posso dire, perché insomma ci conosciamo, che è stata una decisione molto sofferta perché quando ti do del tu, siamo colleghi, sei entrato nel Movimento 5 Stelle tu ci credevi veramente, eri profondamente convinto, poi che cosa è accaduto? Ma io nei valori del Movimento 5 Stelle credo tuttora perché sono stati valori importanti che calati nella realtà politica italiana di quegli anni, di dieci anni fa, quando è nato, nel 2019 più dieci anni, e poi nel 2018 quando ci sono state le elezioni politiche, quindi valori di un nuovo modo di fare politica, di maggiore onestà nella politica, di fine dei privilegi della politica e anche di attenzione agli emarginati, il reddito di cittadinanza. Poi però a mio parere in questo cammino di questi primi tre anni di legislatura io ho notato una grande differenza tra quella che era la teoria, i valori, i principi e poi l'applicazione pratica. E l'applicazione pratica ha trovato problemi enormi nel fatto che le persone che sono state chiamate a fare questa applicazione pratica, quindi a ricoprire ruoli importanti nel governo, nelle istituzioni, non sempre sono state all'altezza. Adesso anche Morda giustamente faceva la sua diagnosi per esempio di Draghi, però dobbiamo anche ricordare per esempio che nel 2011 l'Italia era chiamata a una sorta di ricetta lacrime e sangue per la crisi economica. Oggi Mario Draghi è chiamato a gestire 220 miliardi che arriveranno dall'Unione Europea. Quindi per esempio dobbiamo anche fare attenzione nelle analisi. La situazione è molto diversa. Oggi si tratta di fare bene certi progetti e di spendere bene questi soldi nei tempi richiesti dall'Unione Europea senza sprechi e senza corruzione.